siamo davanti al mercato delle erbe pensate questo mercato è stato progettato più di cento anni fa e poi distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale dicono che qui dentro ci sia un posticino niente male dove si può mangiare pasta fresca tirata alla perfezione quindi entriamo allora immagino che la parola sfoglina derivi appunto da sfoglia visto che qua ne abbiamo una tirata alla perfezione ma tu da che hai imparato chi è che ti ha insegnato quest'arte io l'arte di tirare proprio col mazzarello l'ho imparata da un insegnante sfoglina però sin da piccola facevo la pasta ma l'impasta fin da giovane insomma quindi tanti anni di esperienza ottimo bene allora io aspetto che tu prepari queste fantastiche tagliatelle e le mangiamo con un buon ragù qui abbiamo 300 g di farina in totale sia di canapa che di 00 e tre uova che profumo pazzesco